C'è un piacere sottile, un brivido caldo che dagli occhi passa al cuore. Lo provi quando di fronte a un film all'improvviso pensi Questo è cinema. Succede sempre su Sky Cinema Calta. Non t'ho fatto abbastanza impressione. Potresti fare di meglio. Azione! A settembre sul canale 314 Vi va di vedere una cosa? Assaggia un buon film su Sky Cinema Calta. Ho un grande pilota. Tu che cosa fai? Guido. Di chi sono i soldi della rapida? Dovrai passare il resto della vita a guardarti le spalle. In prima visione. Drive. Lunedì 10 alle 21 su Sky Cinema Calta. Canale 314. Durmici. Musica 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 Grazie a tutti.